Ciao a tutti ragazzi, come state? Spero tutto bene. Allora, oggi siamo qua per commentare quelle che sono state le parole di Massimiliano Allegri in conferenza stampa di vigilia pre-Fiorentina Juventus. Allegri inizia la conferenza stampa con un pensiero ai familiari delle vittime dell'alluvione in Toscana e a chi ha subito danni all'abitazione o altro. Mi sento di fare lo stesso tipo di pensiero e di apertura. Spero che possiate stare tutti bene, ovviamente è una situazione brutta. Io abito in Emilia Romagna, anche qua solitamente, non più tardi, anche dell'anno scorso ce n'è stata una veramente molto molto impegnativa dalla parte romagnola. Quindi avete tutto il mio supporto e il mio sostegno. Spero che possiate stare tutti tutti bene. Un abbraccio forte a tutti gli amici della Toscana che sicuramente ci stanno seguendo. Allegri dice è importante perché si sfida la Fiorentina. C'è uno sfottò tra le società, soprattutto tra le tifoserie. E qua apro una piccola parentesi. Permettetemelo, non ne ho voluto parlare perché sinceramente secondo me sono anche argomenti che lasciano il tempo che trovano. Però è sembrata una leggerissima caduta di stile da parte della Fiorentina. Anche se quando si parla di commesso, diciamo che lo stile è un termine probabilmente da non utilizzare. Sto ovviamente parlando di quella che è stata all'uscita di ieri sulla Juventus. Giocare a Firenze è stimolante. Sono una squadra forte e di prospettiva, anche se è propositiva. Non so leggere. Anche se viene da due sconfitte. Ricordiamo che la Fiorentina infatti ha perso con l'Empoli e con la Lassi le ultime due partite di Serie A. Loro sono una squadra che giocano e per venire via da Firenze con un risultato positivo serve una bella partita sotto tutti i punti di vista. Weah infortunato probabilmente sposterà McKennie a destra. Altrimenti giocheremo in modo diverso. La squadra ha delle certezze e su quello occorre andare avanti. Annuncio subito che a breve sentiremo una sorta di modifica tattica ai ruoli dei calciatori. che personalmente mi ha fatto dristare i capelli, poi ne parleremo. McKennie in un buon momento è cresciuto fisicamente, tecnicamente e soprattutto a livello mentale. Deve crescere ancora, è tornato in nazionale e non si deve fermare. Allegri oggi ha parlato spesso e volentieri dei 5. Ha sempre voluto sottolineare questa cosa dei suoi 5 attaccanti. Questa è soltanto la prima volta. Infatti dice davanti i 5 stanno tutti bene e sanno che anche le riserve verranno impegnate. Che si parta dall'inizio oppure no. Se domani faremo le cose bene, tutta la squadra ne andrà a trarre beneficio. Oggi pomeriggio scioglierò i dubbi di formazione. Ed eccoci qua invece alla modifica dei ruoli. Perché Allegri dice cambiaso senza evoca potrebbe giocare anche a destra. E fin qua ci sta perché cambiaso ha le potenzialità per giocare sia a destra che a sinistra. A sinistra tutti e tre sono in buona condizione. Sta parlando ovviamente di cambiaso, Kostic e Eiling. Quando invece a destra è rimasto solo McKennie. Anche lui comunque ha riadattato come ruolo. Soprattutto ora che manca UEA. Forse uno tra cambiaso e Eiling potrebbe addirittura fare il centrocampista. Per lasciare McKennie largo a destra. Quindi un centrocampista che fa l'esterno. Prendiamo un esterno e gli facciamo fare il centrocampista. Meraviglioso. Anche la fotocamera è andata fuori fuoco. Questo veramente lo considero uno dei punti più alti della storia. Meraviglioso. Mettiamo il centrocampista esterno e mettiamo l'esterno centrocampista per far combacciare il tutto. Fantastico. Allora, io credo che Eiling centrocampista non lo possa fare. Da mezz'ala. L'abbiamo visto anche quest'estate. Durante la tournée limiti terribilmente il giocatore e le sue caratteristiche. Non ci sta un po' come quando l'anno scorso su lei magari veniva schierato come quinto di centrocampo. No. Decisamente no. Non vai a esaltare le caratteristiche del cacciatore. Cambiaso è un giocatore che invece dentro il campo si trova molto su agio. E lo abbiamo visto in queste partite. quando, giocando da esterno, poi andava ad accentrarsi, lasciando libero lo spazio per Federico Chiesa sull'esterno. Però credo che poi perde efficacia se parte già dal centro. Perché è forte il fatto, è bello il fatto, è efficace il fatto che possano scambiarsi senza lasciare anche dei riferimenti agli avversari. Semplicemente la butto lì. McKennie fa la mezzala destra, Cambiaso fa l'esterno destro. Manteniamo il 3-5-2 in quel modo lì. Se poi numericamente, in emergenza, c'è bisogno che Healing vada a far la mezzala, lo posso capire. Ma Healing fino adesso ha giocato praticamente mai. Farlo giocare poi anche in un ruolo non suo, non so quanto possa essere utile al ragazzo. Ecco, la butto lì. Però, pensare, ipotizzare a Cambiaso direttamente centrocampista per lasciar McKennie a destra, secondo me, non è una grande idea. Poi, Cambiaso, secondo me, lì ci può giocare assolutamente. Healing, secondo me, no. Però vediamo. La Fiorentina ha reputo U, la reputo uno delle squadre più attrezzate del campionato. Ha una buona rosa con giocatori tecnici e fisici. Credo che sia un antagonista nella lotta ai primi quattro posti. Hanno allestito quest'anno un'ottima squadra. Le loro caratteristiche hanno Nico Gonzalez davanti. Due centravanti fisici e che attacca alla profondità. Kwame, a sinistra, è Buonaventura che sta facendo cose importanti e straordinarie. E poi c'è Arthur, su di lui non ho dubbi. Si è ripreso dall'infortunio e sta facendo bene. Sarà una partita molto difficile contro una squadra molto valida. A me fa sempre ridere quando chiedono un'opinione ad Allegri sulle altre squadre e lui elenca i calciatori a disposizione delle altre squadre. Mi pare sia accaduto con l'Alazio quando ho iniziato a dire eh, c'hanno Filippi Anderson, c'hanno Pedro, c'hanno Zaccagni, questo qua l'altro. Non mi ricordo se era l'Alazio ma mi sembra di sì. Elenca semplicemente i calciatori della rossa della squadra. Cioè, è meravigliosa, non mi viene in mente un altro modo per definirlo. Federico, chiesa, sta meglio. È stato 20 giorni allenandosi poco. Domenica, quando è entrato, ha creato delle situazioni importanti. Abbiamo in attacco 5 calciatori, ancora una volta torna su questa cosa, che devono darci molto in termini di gol e anche di gioco. Infatti, secondo me, Allegri ha cercato di mettere in evidenza il fatto che domani sarà una partita di sacrificio e il sacrificio parte dagli attaccanti. Perché ha parlato spesso degli attaccanti, ha parlato del gioco che fa gli attaccanti, ha parlato poi di sacrificio, ha parlato di equilibrio, di difesa, di come si attacca, come si difende. Quindi secondo me questo è il messaggio che vuole a passare agli attaccanti. Mi sbaglio? Boh, vedremo, però mi sembra proprio questa la volontà di Allegri. Sule, non avevo dubbi che avrebbe fatto bene a Frosinone. Anche l'anno scorso qui ha fatto partite buone, come a San Siro contro l'Inter. Averlo tenuto qui un altro anno a fare poche partite sarebbe stato deleterio, sia per il valore della società, sia per il ragazzo stesso. L'anno prossimo vedremo. Che un po' secondo me è la stessa cosa su Ealing, quello che vi dicevo prima e quello che dicevo anche l'altro giorno. A maggior ragione è perché Ealing poi va in scadenza 2025. Stiamo attenti su questo ragazzo qua, perché sennò rischiamo veramente di perdere un giocatore con del potenziale. Non devo dare consigli a Chiesa Vlaovic sul loro ritorno a Firenze. Devono mettersi a disposizione della squadra. Abbiamo bisogno di tutti e cinque gli attaccanti e servono buone prestazioni. È quello che vi dicevo prima, no? Questo è un po' secondo me quello che sta cercando di comunicare Allegri alle sue punte. Per rimanere su questa squadra dobbiamo lavorare molto forte e duro, lavorare sui nostri limiti. Serve essere compatti, un gruppo granitico. Siamo sulla buona strada, ma soltanto dieci partite non bastano per l'obiettivo finale. Giocare la Champions l'anno prossimo, questo è l'obiettivo finale. Loro sanno che sono importanti, non per questa partita, ma per tutta la Juventus. Vlaovic, Chiesa, Ken, Milik, Eildiz e tutti gli altri giocatori. Tutti gli altri, però i cinque attaccanti li citiamo prima degli altri. Che cosa stai cucinando, Max? Facci capire qual è l'obiettivo. Fino alla fine della stagione dobbiamo giocare di squadra, mettere gli obiettivi personali al servizio della squadra. Se arriviamo ad ottenere risultati abbiamo vinto tutti. Se no, non c'è uno che vince, uno che perde. Noi dobbiamo avere un profilo basso, e mi sembra che lo stiamo tenendo abbastanza, parlare poco, mi sembra che anche da questo punto di vista non ci sia niente da dire, e correre molto. È una Juve che ha iniziato a correre di più rispetto all'anno scorso, non di tanto, ma qualcosina di più. Questo sicuramente. Poi non serve solo questo all'interno di una partita di calcio. Serve una partita attenta e con rispetto della Fiorentina. In casa produce tanto, ma soprattutto viene da due sconfitte e arriva la Juventus. Servirà una partita di grande intensità fisica, e secondo me ancora si collega al discorso dei attaccanti, come sicuramente sarà la partita di domani sera. Per avere una buona difesa nella partita occorre che tutti i calciatori si mettano a disposizione. A partire dagli attaccanti, che sono i primi che devono correre o siamo costretti ad abbassarci. Se non lavoriamo di squadra è impossibile fare una buona difesa. Poi le due cose sono collegate. E qua non l'ho capita sinceramente. Se fai una buona difesa fai un buon attacco, se fai un buon attacco fai una buona difesa. Questa sinceramente, cioè proprio non l'ho capita. Serve sia un buon attacco sia una buona difesa. Allora, i casi sono due. O Allegri vuol fare una partita uomo su uomo nei calciotelli della Fiorentina, e quindi stiamo progettando una partita ad alta intensità, ma veramente, in cui si pressa alto per forza di cose perché se no ha un problema. Oppure stiamo pensando a una partita di pura sofferenza, dove gli attaccanti sono fondamentali a far respirare la squadra senza abbassarsi ancora di più. Qual è? Quale sarà? Sinceramente non lo so. Sinceramente ho pochi elementi a disposizione per dare una risposta a questa domanda, ma aspetto invece la vostra opinione qui sotto nei commenti, perché secondo me c'è tanto da dire a proposito. Poi ognuno avrà ovviamente la sua lettura, però questo continuo a parlare degli attaccanti, del sacrificio, del... non lo so, un po' mi preoccupa a un certo punto di vista e dall'altra mi dà un po' di speranza, non ne ho idea. De Sciglio tra un mesetto potrà allenarsi con la squadra. Poi vedremo, sarà un rientro importante. Tra Sandro e Danilo è più probabile che rientri prima a Aleksandro. Wow, sapevamo della ricaduta di Danilo, certo. Ma non pensavo fino a questo punto. Danilo, dopo un controllo sulla piccola lesione che ha avuto, e non è ancora posto, ma visto che è piccola ma profonda, potrebbe ingannare. Sono quelle lesioni in cui non senti dolore, ma si crea un danno. Allora, parlando con i dottori e con Danilo per evitare rischi ulteriori, abbiamo deciso di tenerlo fuori. Speriamo di averlo con l'Inter dopo la sosta, speriamo, cavolo. Le lesioni sono toste, sono antipatiche, le lesioni muscolari. Purtroppo ne so qualcosa. E Danilo è un giocatore molto importante. Per la Juve, per la retroguardia della Juve, servirà a averlo a disposizione. Quindi speriamo bene. Non so se domani ci saranno rinvii per la partita. Oggi noi comunque ci alleniamo e partiamo per Firenze. La partita deve svolgersi in una situazione di normalità per quanto possibile. Ovviamente parlare di calcio in questo momento in Toscana è probabilmente complicato. Adesso faccio un escursus, ma c'è anche per dire Luca Comics in questi giorni. Proprio Luca. Ma il tempo ha deciso che questi eventi diventino un po' di secondo piano nei confronti dell'attualità. Perché ci sono delle persone che purtroppo in questo momento stanno combattendo contro una situazione più complicata. E ve lo dico perché io purtroppo ci sono passato non per un alluvione ma per il terremoto. Io per dire non ho mai visto l'ultima partita di Alex Del Piero con la maglia della Juventus. Quella finale di Coppa Italia contro il Napoli. Primo anno di Conte. Del Piero fa l'ultima partita. Io quella partita non l'ho mai vista perché quella notte ho dormito in macchina perché c'era stato il terremoto. Quindi purtroppo questi momenti qua ti mettono a nudo e ti fanno capire che è difficile parlare dei tuoi hobby. Parlare di quello che può essere. Poi vediamo se questa partita si giocherà oppure no. La Curva Fiesole ha chiesto di non giocarla. Io credo che si debba seguire in realtà il regolamento. Nel senso se la partita riesce ad essere fatta in situazioni di sicurezza è giusto comunque che venga giocata. Anche se tante persone in questo momento non avranno possibilità di concentrarsi sulla partita. La Juve di queste prime dieci giornate ha alternato buone partite e altre meno buone a seconda dell'avversario. Lavoriamo tutti i giorni per crescere e migliorare. Per avere una squadra solida e granitica in ogni parte del campo. Serve migliorare la percentuale di realizzazione perché anche con il Verona abbiamo fatto 28 tiri in porta e 12 occasioni da gol ma abbiamo segnato solo al 97. Sono cose da migliorare, precisione ed efficacia di squadra. Lavorare e migliorare sulla fase difensiva perché nel calcio si va presto a distruggere quello che si sta costruendo. Serve continuare a lavorare e soprattutto la nostra forza deve essere quella della compattezza da qui a fine stagione. È un anno importante per portare nuovo la Juventus a giocare la Champions. Allora io parto da quest'ultima frase. Io trovo che quest'ultima frase sia aberrante. Non mi viene in mente un'altra definizione per una frase di questo tipo. È un anno importante che servirà per portare la Juventus di nuovo a giocare la Champions. Mi dispiace, non lo posso sentire. Perché la Juventus ogni anno deve partire in astri di partenza per provare a vincere il campionato, avere una testa di vincere il campionato e non per entrare in Champions League. Io questa roba proprio, stiamo parlando di un campionato italiano che non è in banterera ma non è nemmeno nel suo massimo storico. Quindi stiamo parlando di un campionato italiano onesto, onesto, umile e non può essere un anno importante per giocare la Champions. Cioè questa proprio, che posso capire che si dica, vogliamo entrare nei primi quattro, capisco al 100% dicendo senza porsi i limiti, ma che sia un anno importante per portare la Juventus in Champions, ecco questo proprio, devo dirvelo perché lo penso e faccio fatica a digerirlo. Sono però non d'accordo sull'analisi del momento delle dieci partite, nel senso che Allegri ha parlato giustamente di partite più buone e meno buone in queste dieci, queste prime dieci, però attenzione che non diventi uno standard Juventus e Las Verona, perché la Juventus ha strameritato di vincere questa partita, avrebbe meritato di segnare più gol, avrebbe meritato di segnare prima del 97esimo, avrebbe meritato di vincere 2 o 3 a 0, però non facciamo diventare, Juventus è lo standard nella narrazione di quella che è la Juventus, cioè una squadra che deve migliorare perché cavolo, con le Las Verona non ha fatto gol prima, perché la Juve non è questa roba qui, la Juve è stata, anzi è, la Juve è una squadra terribilmente umorale, perché a seconda dell'avversario che ha davanti, a seconda del momento che sta vivendo, a seconda della situazione psicologica, ha delle prestazioni di un livello o di un altro livello, quindi non facciamo passare la Juve per la squadra che crea tanto e segna poco, perché è stata limitata, circoscritta a Juventus e a Las Verona, questa roba qui, cioè non è lo standard della Juventus, non facciamo passare la Juventus per la squadra che cavolo, deve migliorarla, sta precisione, perché quante palle gol che crea e poi non fa gol, perché è stato limitato a quella partita lì, questa deve essere una roba secondo me chiara, Miretti deve migliorare il fare gol, sono d'accordo, l'ho detto tante volte che secondo me Miretti ha proprio un blocco psicologico da questo punto di vista e una volta iniziato a segnare non si fermerà più, va al tiro spesso, capitano situazioni favorevoli e deve imparare a fare gol, questo è successo a molti giocatori giovani e poi quando si sono sbloccati trovano più facilmente i gol, Fabio ha il tiro, l'altro giorno ha dato imprevedibilità alla squadra perché si muove, riceve bene, palla tra le linee, assolutamente sì, deve però fare ancora molte esperienze nonostante le 50 presenze nella Juve, ma è un giocatore di futuro e affidabilità. Io su Miretti faccio un po' lo stesso discorso, ma lo facevo anche quest'estate, poi per fortuna che è rimasto Miretti con le situazioni legate a Fagioli e a Pogba, però tenerli lì, cioè io penso a Ealing, penso anche a Nicolussi per dire, mi dispiace che questi giocatori non stiano trovando spazio e Miretti che invece lo spazio l'ha trovato, secondo me aveva necessità di andare in una squadra con un allenatore in grado di guidarlo in questo momento per renderlo veramente un calciatore, una squadra in cui non ha le pressioni della Juventus e può concentrarsi unicamente su se stesso per poi tornare alla Juventus con un'altra mentalità, un po' come ha fatto anche Fagioli, perché rimanendo la Juve in questo momento qua, a maggior ragione senza le coppe, ecco come sta facendo Sule. E questi calciatori poi non riescono a trovare la continuità di rendimento e il modo di migliorare loro stessi per mille motivazioni che vanno dalla gestione di Allegri nei confronti di questi calciatori e del risultato fino ad arrivare banalmente al fatto che la Juventus è una squadra in cui si pretende e serve a questi calciatori in questo momento qua, in questo contesto di Juve qua, che vadano anche a farsi un'esperienza formativa e che possano tornare più pronti per la Juve, perché mi rettino altre quelle che secondo me di qualità ne ha e anche tante, però ha bisogno di qualcosa di diverso in questo momento per tornare alla Juve e rimanere alla Juve da calciatore importante, perché oggi la Juve è così, non gli dà la possibilità di diventare quel giocatore che sappiamo può diventare. Signori, questa è l'analisi della conferenza stampa, fatemi sapere la vostra qui sotto nei commenti e noi ci vediamo domani con il video pre-partita. Ciao!